1. Prepariamoci a vivere un weekend di orientini Oggi prestazioni di alto livello La vittoria va sudata caro Lo so bene Mi piace questo nuovo ruolo Non vedevo l'ora finalmente Vola basso Siamo con Vincenzo Lima, il grande campione Mi straforma con l'accento altoatesino e saluti da Bozzano Ed ora, visto che la nostra gara sta andando benissimo Andiamo a vedere gli uomini di alta classifica Sempre più in alto Quanto qual c'è Struzzo per questo stadio? Vabbè, ancora non sono arrivata a questi livelli Grave 1917, rivoluzione russa Sì, era una buona russa Era molto bella Mi piace sempre fare sprints e altre competizioni in Italia Quindi ero molto felice di venire qui Com'è il tempo? È buono? Avevamo chiesto degli effetti speciali Anche un po' meno erano sufficienti 5, 4, 3, 2, 1, via Salvagente l'hai portato? No, l'ho lasciato a casa, mi sono scordato La ricetta per vincere oggi Stare calmi e correre la bomba Oggi ti sei cucinata agli avversari Sì Me li sono anche mangiati però Siamo a ora 39 minuti E 10 secondi Quando c'era vento contro Non si riusciva ad andare avanti Però io sono partito fiducioso Francesco Mariani Uno che non si prende seriamente Quando c'è da Correte seriamente Lo faccio seriamente Da Gaggio Montano è tutto